Ho appena sentito il ministro e vi confermo che anche la prossima settimana le Marche saranno in zona gialla. Raccomando sempre la massima attenzione e il rispetto delle regole anticontagio. Così su Facebook il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Nelle Marche è in vigore fino a domani sera, domenica, una ordinanza che prevede limitazioni in entrata e in uscita della provincia di Ancona, dove c'è un incremento dei contagi. Prendiamo atto che le misure di restrizione adottate per un'ulteriore settimana sono sufficienti e proporzionali allo stato attuale del numero dei contagi raccolti, secondo le indicazioni del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Regione Marche. A dirlo è Valeria Mancinelli, presidente dell'Anci Marche e sindaco di Ancona, nel corso dell'incontro con i sindaci della provincia di Ancona, convocata dal presidente della giunta regionale Acquaroli alla presenza dell'assessore alla sanità Saltamartini, della dirigente di Furia e della prefettura di Ancona. Oltre al sindaco di Ancona hanno partecipato all'incontro anche i sindaci di Fabriano, Iesi, Falconara, Loreto, Camerano, Castelfidardo, Castelplanio, Sassoferrato, Chiaravalle, Osimo, Senigaglia, Sirolo, Montemarciano. Stante così le cose abbiamo avuto rassicurazione che non c'è alcuna necessità di provvedimento da parte dei comuni, conclude Mancinelli.